Cosa rappresenta, Presidente, l'ingresso rudinese? Rappresenta molto di più che solo il calcio. Rappresenta occupazione, rappresenta fatturato, rappresenta indotto, responsabilità sociale, ambasciatore della nostra regione e dell'Italia intera a livello internazionale e di conseguenza per noi è un estremo onore avere fra i nostri associati un'impresa, perché di questo stiamo parlando, di questo genere e siamo molto orgogliosi anche del fatto che l'Udinese Calcio si sia resa conto di cosa significa Confindustria Udine oggi. Far parte di Confindustria significa poter essere coinvolti ed essere partecipi ancora di più di quella che è l'economia della nostra regione, in quanto Udinese Calcio non è soltanto un'azienda che fa appunto calcio ad alto livello, che fa sport ad alto livello, ma è anche proprio un'industria che dà occupazione ogni giorno a oltre 150 persone e il nostro obiettivo è quindi quello di promuovere il territorio, di creare valore e soprattutto di fare squadra con le aziende e con gli imprenditori del territorio. Siamo contenti di questo ingresso in Confindustria e di questo voglio dire un grande grazie alla Presidente Anna Mareschi Daniele e anche al Direttore Generale Michele Nencioni e questo far parte di Confindustria permetterà anche a Udinese di poter portare la propria esperienza anche su tavoli diversi dal calcio e poi anche un altro aspetto importante è che il brand di Udinese Calcio troverà la possibilità di crescere ancora trovando nuove occasioni commerciali e imprenditoriali anche per quanto riguarda lo sviluppo della Dacia Arena.